ma ari buongiorno amiche ari buongiorno amici come va come sta proseguendo il vostro sabato vostro sabato estivo il primo sabato estivo magari capiterete qua state capitando qua che è autunno che è inverno che non esiste manco più il mondo siete rimasti solo voi con l'accesso a youtube il cielo finalmente è blu c'è un po di foschia tra noi e l'umbria che permane ma il cielo è blu è stato un po più fresco il sole è bruciacchia siamo in casa chiuse in casa perché la mia minina la mia cagnolina patisce tantissimo il caldo peggio di me davvero io in casa ho le braccia fresche non sto sudando e invece lei era prima piangeva era strabaccata per terra ma sapete cosa faccio tra un po adesso che si è rilassata la lascio in pace ma come si agita andiamo la doccio per bene e la asciugo un pochetto perché sapete anche le zampine vanno asciugate agli animali se no le artrose che già lei non si fa mancare niente come mi dire il resto bene kagashpuda se dice dalle mie parti non so se anche gli altri dialetti tendono a essere un po' così grevi ma mi piace guardate un po kagashpuda vuol dire tale e quale sa perché qualcuno sa dirmi perché kagashpuda è così allora lorenzo allora è un modo di dire le spezzino antico ci sono rimasta io forse no chissà io spero che qualche altro spezzino mantenga ma proprio questi costumi qua anche sto cercando di farmi la coda che è uno scovolino però io non sopporto i capelli sul collo non sopporto i capelli sulla faccia quindi ma fatti i capelli corti non li sopporto nooo non ci penso eh adesso ti come li ranzo zan 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 così come feci nell'estate del 2000 mamma mia ho preso il rasoio vuon 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 a 6 mm guardate che 6 mm sono pochi eh ho dovuto prima tagliare a forbice e poi passare la mia meravigliosa tondeuse crapa pelata fase a tortei in daminga se fra dei oh ci ho provato un gusto ve l'avevo raccontato e sono rimasta tutto il giorno col turbante in casa dall'asciugamano poi a un certo punto ho dovuto togliere mia figlia ma la dette di tutti i colori urlava come una pazza quanti anni aveva nel 2000 camilla 12 dell'88 oh santa pace urlava io però poi ho beneficiato di tanti privilegi sempre più rari anche nei confronti di chi ne ha veramente bisogno quindi persone che si alzavano in metropolitana mi davano il posto alla cava non avvicinavo alla cassa dei supermercati mi lasciavano passare a parte che avevo una faccia immacciata perché stavo passando un momentaccio ragazzi un momentaccio familiare che di peggio no di peggio e quindi poi ci ho provato un gusto a un'estate terribile quella del 2000 io vivevo nel comune di Pomezia in una frazione che cardo sono una marinara che non ama vivere a livello del mare cioè o sono dentro al mare sul mare in barca e allora io sto bene mi tuffo ritiro su non so io patisco guardate il mare prendi il secchio e te lo butti addosso stai lì essenziale poche cose poche cose da fare oh ma io sono montanara tanto marinara quanto montanara l'estate dove vai se non posso stare dentro al mare io vado in monta vorrei stavo tanto bene roca di papà ma con chi te l'ha fatto fare evidentemente via eh tante cose anche perché inizio a avere un'età stavo proprio abbastanza affrettata anche se in realtà la navetta non mi passava tanto distante da casa eh quindi avrei potuto per raggiungere i punti vendita o le fermate cotra utilizzare la navetta del comune ci manca sì però poi quando avevo quella nevicata è stata illuminante che bello mi mancava la stufa guardate ma stavo lì imbricata dentro un bosco ma non potevo giocare col fuoco ma no avevo un patio una casa a microbo ma un patio con lo spiovente in travoni belli col di fronte a me i castagni quindi ombra su ombra che spettacolo la gente di mamma aveva freddo a casa mia già dal cortile a casa e quanto ho tessuto in quel periodo che bello quanto sono andata in giro con la minuscola che bello il sentiero ce l'avevo lì esci pum prendi la prima ipovia e vai Lorenza non tornare più portavo il mangiare con me ma anche in autunno io ho mangiato all'aperto ve lo ripeto a gennaio o dicembre un grado io ho pranzato là sotto nevicava e stavo là sotto Oreste Oreste era l'animale più felice del mondo che a parte che anche qui male non sta lui patisce un po' il caldo come noi però ero sempre fuori ero sempre all'aperto ero molto più all'aperto la sua a 800 e passa metri che qua a 300 manco no non sono 300 metri uffa uffa sto maturando che forse forse voglio andare in Sicilia ma come Lorenza patisci il caldo voglio andare in Sicilia sì a 800 metri dove andranno ci sono i boschi in Sicilia non vorrei dire ma ci sono i boschi come sì come ci sono in Sardegna i boschi non ho detto che la Sardegna è tutta boscosa fino al mare ma ci sono i boschi ci sono proprio i boschi quindi basta andare mirare mira il dito Lorenza e vai in Sicilia ci sono i boschi ad Erice non ho i boschi ma Erice è alta Erice è alta poi ho l'ovovia che quella non mi fa paura è vero potrebbe sfrigolare anche quella come non sfrigolare però l'ovovia di Erice Erice non mi preoccupa e poi posso vedere il mare dall'assù poi mi giro vedo la campagna Arsa che poi però arriva anche il verde e poi e poi posso andare posso andare oggi vado a Marettimo e poi magari mi ci fermo a dormire da qualche parte poi oggi vado a Levanzo e poi torno poi oggi vado a Favignana e tra l'alero oggi vado a Marsala scendo vado a Trapani prendo il bus o che ne so se c'è anche un collegamento via mare e vado a Marsala o poi vado a Palermo e da dove passi boh non lo so ci sono i collegamenti ecco voglio andare a vivere in Sicilia io Santa Pace tanto qual è un posto dove si vive facilmente ditemelo voi e quindi io a me sono abituata diciamo sono strutturata per affrontare le difficoltà di un inserimento se non mi inserisco a me mi appoggio da qualche parte e vivo oh che bello solo che è troppo lontana da Camilla non è che vuoi dire prendo il bus e devi prendere l'aereo che palle ecco io non amo volare manca un po' l'oddo proprio via mare ecco non abbiamo delle vie molto svelte dalla Sicilia se non sono aerei via mare c'è anche il traghetto che arriva sino sino a Napoli volendo poi c'è gli animaletti ce li avrò sempre degli animaletti con me ma comunque io ho questo sogno di soggiornare a parte che per me due giorni in un posto vuol dire già abita io ho abitato tre giorni due giorni e mezzo quanto ci sono stata a Procida bene io mi sento una Procida io ci ho vissuto ci ho cucinato ci ho pulito il pesce ci ho vissuto tre giorni quanto me ne servono vabbè sì non ho socializzato però sono andata a fare la spesa mi sono fatta amico all'ortolano e sono andata a comprare il pane gluten free le focacce gluten free le pizza gluten free i dolci gluten free anche quelli con glutine purtroppo ma erano buoni e ho raccolto gli agrumi ho chiacchierato sì ho chiacchierato tutte le parti e più invecchio e più ironizzo e più mi frega niente guardate dei cambiamenti sinceramente ti fai amicizie ma non sono così amicizia dipendente perché perché ho le mie passioni so come occupare il tempo e poi comunque chiacchierò a faccia di chi mi vuole male se proprio ho bisogno e sono un essere umano quindi ho bisogno di socializzare e vi preoccupate che si trova sempre una perapia opera un'anima pia con la quale scambiare due parole ma anche fossero turisti guardate io mi ci vedo tanto bene a Derice voi no non mi ci vedete bene a Derice io sì e poi si tesse a Derice ci sono i laboratori di tessitura e poi ci sono le genovesi vuoi che io sono spezzina non vada dove anche a Napoli c'è una genovese che è una pasta vedete che anche a Napoli io ci starei bene però Napoli è troppo grande è città io non amo le città non posso vivere in città vivere la Procida fra le varie isolette Procida la mia preferita guardate ho soggiornato vacanza a Dischia ho soggiornato un po' un po' di tempo a Capri ma una giornata guardate una giornata è bellissima che poi amo Anna Capri la parte di là uh ho nuotato dove mi girava la testa per la trasparenza dell'acqua non capivo dove stavo che bello amo la costiera Amalfitana che spettacolo che non ho potuto visitarci passeggiando anche no si poteva parcheggiare vabbè comunque mi piace la palata anche in Puglia in Puglia ci sono state due volte in vacanza io amo la Puglia quei sassi bianchi i trulli gli olivi il pane che non posso mangiare ma che buono le verdure in Puglia che spettacolo non ho mangiato ciccia in Puglia ho mangiato pesce quello si ma ciccia no in campeggio cosa mangiavi era un campeggio ma che ne so mangiavo guardate andavo al mercato si andava al mercato di Manfredonia si faceva la spesa ho amato il mercato di Manfredonia il costume di trovarsi le cassette di ortaggi davanti alle abitazioni private si bussa signora posso avere due chili di pomodori all'epoca ne mangiavo ancora tanti e che bello il freddo di notte ero a mattinata un campeggio che chissà se esiste ancora c'era da fare una discesetta arrivare al mare ma eravamo lì sotto al paese di mattinata Monte Sant'Angelo a un passo che belle foto Monte Sant'Angelo la foresta Umbra eravamo proprio al limite del Gargano ma che meraviglia di verdure che meraviglia ma poi figuratevi giovani panino e vai però cucinavo un fornelletto ma volete una canadese sapete quelle originali piccole che poi uno impara dice 7 in 2 la compri da 2 no 7 in 2 la compri da 3 perché almeno c'è un po' più di spazio la mia prima tenda è stata una canadese di quelle che mi è nata comunque da montare anche la canadese stretti io cucinavo avevo il mio fornellino un pentolino facevo andare di quei profumi e intanto un po' d'aglio un po' d'olio un olio una bottiglietta guardate non muoro di fame mai a tutto il più bussa una porta guardate se non trovo niente come sono contenta stamattina come mai perché ho ritrovato il portafoglio state bravi sono uscita da casa sono fatto tutto un giro di pepe con la minuccia che cammina pianissimo una volta mi precedeva come andava poverina quando aveva ancora il suo collo del femore sinistro adesso si affatica sempre io no me lo devo ricordare che per me un giorno in più di vita è una bella fatica ha quasi 12 anni con tutti gli acciacchi che la mia bimba qua pelosa ha dovuto affrontare e ancora affronta santa e quindi sono andata dalla fruttura allora sono arrivata a 80 metri da casa ho tirato un accidente ho imprecato artisticamente non volgarmente mi sono dimenticata di inviare alla alla cartolaia il link per stamparmi un pattern e io non avevo con me il telefono mia figlia fa chi sta bene così in pan non ce l'ho mai con me il telefono mai 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 non esco col telefono che sono medico io che mi devono reperire ovunque vada no il mio meno roba ho nella borsa è meglio sapete no il mio rapporto con le borse che ho sempre invidiato gli uomini che li ho sempre visti uscire con niente le chiave di casa un portafoglio un fazzoletto nel taschino ci hanno sempre avuto gli uomini una volta il telefono non c'era e io li invidiavo perché devo bisogna uscire perché sembrava tutto indispensabile alle donne mi hanno cresciuto con questa cosa della borsettina sin da piccola che mi piaceva pure il profumo il fazzoletto il rossettino il pettinino le forme dico tutto quello che mia zia mi infilava nella borsa quando andavo a piombino bambina piccola tutte queste cose qua le mollettine i fiocchettini il cerchietto gli occhiali da sole ho una foto non so se ve l'ho fatta vedere con il cappottino il calzoncino in testa qualcosa ho forse il mandillo mi ha messo un fazzoletto sta sempre i mandili in testa e ho gli occhiali da sole e stavo su un'altalena dove stavamo a Salivoli al parco giochi di piombino il parchetto quello con le giostrine le altalene quello che stava in culonia si può dire rispetto alla casa dei miei nonni che i miei nonni stavano a fianco al castello di piombino e io in inverno mia zia era lei che mi ha cresciuto così fanatica però poi mi è passata stava io adolescente invidiavo i ragazzi che non avevano niente appresso questo senso di libertà esci senza ingombri senza pesi ecco invece noi dovevamo avere la borsetta il zainetto il marsupio quella del marsupio però mi è passata presto perché non mi è mai piaciuto il marsupio me l'ero comprata alla fine di San Giuseppe in pelle di cammello che puzzava di cacca ma è un problema di concia non mi ricordo che a me la diceva che a me era rimasto poi e lo tenevo in un comodino con dentro una naftalina di tutto oh che ho d'olio in questa camera mia figlia che era ancora piccola e va bene e quindi sono passata dall'ortolano dopo aver detto porca miseria avevo fatto tutta la mia mappa no avevo tutto passo prima qui poi vado in cartoleria poi vado a prendere il pezzo di sapone e l'insetticida al negozio dei saponi poi giro giro passa la hoppe a vedere se c'è la ciccia del gatto poi ho pensato ma no mi hanno appena fatto i barattoli ho detto che devo scongelare frigo e frigorifero e frizz poi sono andata all'altro negozio perché quello che non ho trovato dall'ortolana lo sono andata a cercare dall'altra parte quindi i crocchi del gatto che adesso abbiamo provato un tipo una marca senza cereali e pare c'è il riso pare che Oreste gli apprezzi perché poi mangia cucina adesso è lui che mangia cucina lui mangia cucinato e ha dei crocchi perché poi gli chiede però gli snobba qua per trovare i crocchi per lui poi io sono nemica del glutine anche negli animali e e quindi mi servivano i crocchi che ho comprato il cavolo cappuccio che non l'ho trovato dall'altra parte perché la mia insalata è il cavolo cappuccio la verdura cruda che io mangio quasi tutti i giorni poi cosa ho dovuto prendere che era olive ah ho preso la ciccia ho preso la ciccia il macinato di scottona perché così me lo faccio insieme alle verdurelle però ho imparato allora di solito dico vabbè è poco lo cucino tutto poi ne faccio due porzioni e me lo metto via cucinato insieme alle verdurelle no che poi è buono me lo mangio tutto e allora lo metto via metà eh lo so consumo più gas ma pazienza perché sono una ghiotta mi piace eh saltare con un po' di aglio fresco poi ci metto che erbette ci metti e ci metto la santoreggia a me mi è andata il trip della santoreggia un po' di erba cipollina l'aglio fresco appunto un po' di olietto se ci vuole le zucchine quindi prima salto le zucchine che buone l'ho mangiata ieri che me l'ha data la mamma della mia vicina di casa mi ha dato zucchine eccetera le ovette ah con i fiori ecco e oggi mi faccio i pancake anche mi preparo i pancake con i fiori di zucca una zucchinetta farina di riso un ovetto un po' di aromi papà papà che buoni e quelli me li lascio anche per fare colazione domani mattina che freddi sono buoni uguali e non metto lievito uso come si chiama il bicarbonato e poi monto a parte l'albume con il frullino a mano che ganso tra l'altro mi si sta rompendo del tutto il frullatore di immersione numero due devo dirla Camila Camila mamma prendiamo un po' un frullatore di immersione che senza come te la faccio la maionese io a mano te la faccio davvero e quindi che serve serve e quindi cosa ho preso all'altro negozio la ciccia il cavolo cappuccio i crocchi del gatto no c'è un'altra cosa erano quattro cose che cosa ho preso oh Lorenza eh non mi viene in mente cavolo cappuccio crocchi ciccia ah le gallette ne mangio poche però senza meglio non starci insomma una vita se no poi a volte dico devo mangiare una cosa al volo fare colazione cosa ci metto cosa ci mangio cosa mangio cosa mi cucino non ho tempo però ho fame una galletta che ci sbatto sopra un po' di verdura cotta magari che ce l'ho oppure cavolo cappuccio che l'ho grattugiato e va via e va bene ecco 20 minuti di chiacchiere così e insomma dall'ortolana che ci hanno messo a parlare dei fatti nostri è una mammina due bambini Greta che adoro e poi insomma abbiamo parlato dei fatti nostri quindi quando è arrivata gente ho fatto di corsa ho finito di fare la spesa e cosa ti sei comprata dall'ortolana ecco visto che ieri dalla mamma di Claudio ho preso le zucchine i cetrioli e le ovette allora da lei che non mi viene in mente il nome ho preso un peperone rosso che oggi farò crudo bello sodo io li mangio più crudi che cotti i peperoni poi una bella melanzana soda che me la farò domani e come te la fai? ma me la faccio ben fritta scusa domani è domenica e non ridete e poi che ho preso? ho preso qualche albicocca e ho detto prendi me la più molla che no molla proprio marcia no ma orribile bella matura mi piace succosa me la frutta ma l'aglio dura poi ho preso due pesche proprio due e due pesche noci poi che ho preso come viene più o meno ah una testa d'aglio due o tre cipollette fresche e poi ho dato ovviamente un po' di prezzemelo che non ce l'ho più e un po' di sedano così mi preparo una minestrina con che cosa? con qualche foglia di dieta che ho nel vaso un po' di sedano le carote ecco ho comprato anche le carote dall'ortolano insomma poi ho pagato i soldi non li avevo tirato fuori il portafoglio il mondo dove dentro tengo tutto i biglietti da vita la patente scaduta la carta di età il banco e tutto c'è lì dentro il mondo di tutto c'è le fotografie di santini di famiglia e poi invece avevo i soldi nel portamonete e quindi ho pagato ho posato da scema ho preso ravanato ho preso un piccolo poi lo faccio vedere carino mi ha regalato un'amica ho pagato ti ti timi del resto prendo il portafoglio ve ne siete accorti voi tra un cestino del banco e l'altro faccio tutta la camminata con calma arrivo al negozio l'altro che è abbastanza distante cercando l'ombra entro dentro faccio la spesa la coda il banco della ciccia e vado per pagare tiro fuori non c'è il portafoglio mi è preso un attacco di panico ragazzi ho attaccato mi sono sentita il sangue defluire ai piedi fum ho attaccato immediato ho gocciolato dalla fronte mi fa signora sta male non ho il portafoglio voglio l'ho lasciato dall'ortolana tra l'altro vado a dire concorrenti che avevo già fatto spesa di verdura però ho preso la verdura anche lì quindi molo lì tutto ritorno vado cerco un signore un amico di me un signore che mi ha dato il passaggio all'ortobotanico l'altra settimana Giulio meno male me lo dà un passaggio dall'ortolana ho lasciato lì al portafoglio lei che aveva già cercato di chiamarmi ma io non avevo il telefono e quindi aveva intuito l'ho aperto ma non ho capito però ho pensato fosse il tuo infatti mi sono riattaccata e ho trovato Lorenza hai mica lasciato un astuccetto da me che carino una bustina una pochettina una bustina carina un peggio di pelle sottile delicata cari bello robusto che dentro veramente c'è di tutto non c'era la penna c'ho il mondo di roba là dentro ecco e quindi sono tornata lì Lorenza è il tuo sì ecco meno male mica per altro non c'era un soldo ma avete l'idea cosa vuol dire fare una denuncia bloccare il banco la patente anche se è scaduta la mia patente la carta d'identità appena fatta il codice fiscale tutte le tessere varie la biblioteca la ob la zim la zum la zam la zin la zom e poi che altro c'ho là dentro c'ho di tutto e vabbè appunto tutte le cose che mi servono appunti una ricetta di cose che devo avere con me l'antistaminico ce l'ho là dentro ecco ce l'ho sempre con me non le mie pastiglie le mie pomate i miei accidenti sono arrivata là ho detto adesso mi fermo un attimo respiro poi vado il signore fuori dal cortile perché la mia trolla una bancarella in un cortile Lorenza ha trovato sì meno male andiamo Giulio che gli offro un caffè ma Lorenza l'ho appena preso allora le offro una birra no ma adesso devo mangiare allora le offro un cordiale no quello veramente servirebbe a me comunque insomma mi sono fermata a farmi un cappuccino col miele che non avevo neanche intenzione mi sono ripresa ma mi è venuto un mal di pancia prima del cappuccino un mal di pancia un'agitazione un corpo mi ha preso un corpo perché poi chi glielo va di la mia figlia oltretutto la mamma amore ha lasciato meno male che non c'avevo le chiavi là dentro santa pace va bene adesso vi saluto qua poi vi vengo a raccontare altre cose va bene voi come l'avete cominciato sto sabato avete mai perso il portafoglio avete mai dovuto fare questi accidenti in estate poi e lontani dall'ufficio comunale lontani da tutti e lontani dal cuore no basta va bene adesso torno torno vi racconto ma non c'avevi da fare sì che c'ho da fare però mi diverte star con voi cosa ci posso mai fare vi tengo compagnia so che due o tre persone hanno piacere che ancora stirano amate amati mollate il ferro fate qualcosa stirano puliscono fanno la maglia chiacchiano bevono un caffè e stanno in compagnia sapete la chiamiamo radio radio maria come la chiamiamo sta cosa chiamiamogli un nome diamogli un nome come la possiamo chiamare lasciamolo col mio nome cognome boh datemi un po' un'idea per favore vediamo un po' se mi ispira ah poi vi devo raccontare uh quanti progetti progetti ah sono contenta sono sembro dopata stamattina ma guardate che mi sono sentita veramente dei fluidi del sangue e del caviglio wufu sono un po' emotiva beh ragazzi ma avete idea si qualcuno io veramente ho passato un periodo della mia vita ero sempre nelle questure a far denuncia perché mi rubavano il portafoglio ma questa la interdiamo ma sempre a lei in situazioni simili poi eh entrando nella metro uscendo dalla metro a Milano mi hanno rubato due volte a Milano in metropolitana una volta mentre salivo una volta mentre scendevo che sono momenti clou dei furti e mi sto grattando la schiena perché c'ho ancora l'orticaria ma sapete che le pizzicate degli insetti mi stanno lasciando di quegli edemi oh santa pace va bene adesso vengo a dire cosa mangio oggi cosa mangio oggi allora oggi faccio allora eh ma c'ho i fiori freschi non posso lasciarli invecchiare quindi faccio i pancake con i fiori di zucca e la zucchinetta la cipollotta fresca un ovetto e e anche uno zucchinetto ci metto ce l'ho piccolini belli freschi che buoni gli ortaggi freschi non c'è cosa più buona secondo me degli ortaggi freschi ecco raccolti e mangiati vabbè quindi mi faccio quelli poi mi faccio l'insalata a fianco con un cetriolo un po' di cavolo cappuccio e il peperone rosso tagliato a listarelle tin 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 devo prendermi anche quello giallo però vabbè oh questo sarà il mio pranzo e per la sera cosa ti fai Lorenza? non lo so una minestrina mi cuocio una zucchinetta mi cuocio le bietoline non lo so non c'ho più barattoli non c'ho più le mie minestre devo svuotare il freezer ciao 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 ciao